Signori e signori buonasera e benvenuti a teatro. La serata sarà speciale perché questa oggi è la giornata mondiale del teatro e noi siamo a teatro. E questi attori poi sono persone anche simpatiche, disponibili. Tu e l'Ele Amoruso che li avete visti da vicino, come li avete vissuti? Guarda, sono delle persone come noi, insomma, delle persone normali che fanno questo lavoro, tutto qui, quindi nulla di eccezionale. Il primo appuntamento primaverile della stagione teatrale soveratese coincide con una serata di pioggia e vento che però non scoraggia il pubblico, stimolato da Roberto Sciufoli ed il suo spettacolo Tipi. Un resital comico antropologico alla scoperta della psiche e dei comportamenti di quell'essere umano, tanto complesso nella sua semplicità. Il miglior modo per festeggiare la giornata mondiale del teatro, con un attore amato da tutti e sempre capace di inventare scene e dialoghi particolari e significativi. Un Roberto Sciufoli in forma smagliante, capace di rapire il pubblico con una ricca carrellata di personaggi e modi di fare, che, partendo dall'osservazione della realtà, arriva al cuore e alla mente degli spettatori, strappando risate, riflessioni e applausi al tempo stesso. Il sesto appuntamento al teatro di Soverato si racchiude in una serata, ancora una volta magica creatrice di una fluida sinergia di intenti, tra chi è su proscenio e coloro i quali siedono in platea e galleria. Uno spettacolo che cresce e travolge il pubblico con un'escalation di battute tipo Ho vinto il concorso per diventare il più pigro del mondo, come ho fatto, non ci sono andato. Oppure, meglio ubriachi e famosi che alcolisti anonimi. Un vero mattatore Roberto Sciufoli, con la sua voglia di fare ed essere teatro, nonostante il grande successo televisivo non solo, che ne ha contraddistinto la spumeggiante carriera. Ancora uno strike per l'amministrazione comunale della Perla e lo Ionio, che, in questo 2023, ha messo in campo un'idea, una formula vincente sul piano culturale, sociale ed anche economico. Emanuele Amoruso, insieme a tutti quelli che si sono spesi per la riuscita e l'iniziativa e del progetto ad essa sottostante, sono un po' come Roberto Sciufoli. Innovativi, professionali, intelligenti, capaci di recepire gli stimoli del mondo intorno a loro. In pratica, dei veri e propri tipi, antropologicamente ben definiti e sostanzialmente vincenti, al tirarte la somme finale. Sesto appuntamento della stagione teatrale, qui nella bomboniera del Teatro Comunale Soverato, Roberto Sciufoli con un recital comico-antropologico, tipi. Ci può spiegare almeno una parola la più difficile di questo sottotitolo, comico? Comico, infatti, quello avrei spiegato, perché adesso c'è veramente tanto poco da ridere. Quindi il comico è anche stato declinato in maniere tanto differenti, perché è quello che dovrebbe arrivare subito dopo il drammatico. Quindi per questo il comico fa ridere, perché conosce tutte le varie sfumature, che sono quelle anche le più tragiche proprio dell'essere umano e di quello che accade nella società. Quindi spingendo un po' sull'acceleratore, arriva poi a rendere la cosa comica, a renderla divertente. Ma deve, appunto, osservare bene. E questo spettacolo è proprio un esercizio di osservazione. Infatti l'antropologico poi viene da questo, dal fatto di osservare l'essere umano e vedere come il linguaggio del corpo riesca a decifrare dei lati del carattere, delle scelte, anche di stati d'animo soltanto della persona magari che abbiamo davanti o di uno che passa. Quindi già vedendo come cammina potremmo capire delle cose. E allora mettiamo subito in pratica queste cose. Lei è stato vicino all'Ele Amoruso e ora è vicino a un giovane cronista arrembante. Gli facciamo un'analisi antropologica? Beh, al giovane cronista direi, insomma, di fare un'analisi ora, di essere un po' più attaccato alla realtà, ecco, insomma, anche perché se il giovane è legato ad una fascia d'età, allora, se è come giovane cronista perché è iniziato da poco, allora la cosa diventa già più interessante, insomma, tanto per andare a studiare le parole. E l'Ele Amoruso? Per l'Ele Amoruso è un concentrato di impegno e di energia, insomma, oltretutto ho visto la programmazione che avete messo in piedi in questo teatro ed è, insomma, ci sono tanti colleghi bravi, io non capisco oggi, poi oggi, che è la giornata mondiale del teatro, abbiamo preso proprio una scivolata con Roberto Ciufoli, insomma. E anche il primo spettacolo primaverile, e il tempo ce lo dice. Infatti sì, si vede che è primavera, immagino come sia stato l'autunno qua, insomma, cioè, fino all'altro giorno avevate la neve, se questa è la primavera, ma ci ha accolto tanto vento, tanta pioggia, ma l'importante è che poi all'interno del teatro ci sia calore e vedrete altro che primavera, all'interno del teatro facciamo sbocciare l'estate. E un'ultima battuta, lei è nato il primo marzo e se ho capito bene era il giorno di Marte di Grasso, vent'anni fa. No, siamo sinceri, non è vent'anni, sono ventidue ormai, basta dire la cosa, no, ho ventidue anni. Però era Marte di Grasso, quindi è stato uno scherzo già dall'inizio, era un destino. Pesci e Ascendente Leone. Ma nemmeno io me lo ricordavo, sì, Pesci e Ascendente Leone. E allora l'ultima cosa, qui abbiamo un'abitudine, dare un autografo a tutti gli spettatori di S1 TV, è possibile? Ma quindi do un autografo a tutti e uno? Siamo venticinque. Vabbè, allora facciamo così, guarda, ecco, venticinque. Ciufoli, meglio del par de Ciufoli famoso che a Roma invece significa un'altra cosa. E il sesto appuntamento con la magica stagione teatrale di Soverato, Lele Amoruso seduto, un attimo di relax dopo aver incontrato, conosciuto e accompagnato Roberto Ciufoli, un grande attore. Sì, un grande attore, veramente un grande professionista del teatro. È bello quest'anno averlo qui sul nostro palcoscenico in questa bellissima stagione che ci ha dato tantissime e grandissime soddisfazioni in termini di partecipazione, ma anche poi in termini di godimento di quelli che sono state l'offerta teatrale. Questa sera con Roberto Ciufoli, con un recital comico antropologico e poi lunedì prossimo con Carlo Bucci Rosso, grande spalla di Vincenzo Solemme, quindi torna il teatro napoletano. E poi per chiudere in bellezza con Enzo Iacchetti e Vittorio Belvedere con Bloccati dalla neve, un altro bellissimo spettacolo. Una grande fatica organizzativa, ma anche tante grandi soddisfazioni. Lele Amoruso, come potrebbe tirare già le somme o aspettiamo proprio la fine della stagione? Aspettiamo la fine poi per giudicare anche tutte quelle che sono state le presenze. Comunque poi si è vista una grande risposta di pubblico, quindi una grande partecipazione, quindi questo fa ben sperare anche per il proseguo. I spettacoli sono stati veramente molto importanti e di grande caratura. Oggi voglio dire una cosa, 27 marzo è la giornata mondiale del teatro e noi l'abbiamo voluta festeggiare proprio con la presenza anche di Roberto Ciufoli, quindi anche questo è un segno di particolare attenzione. Io credo che poi Soverato ha risposto veramente molto bene a quella che è stata la nostra stagione, quindi ciò fa significare che c'è stata voglia anche di tornare alla normalità e anche una grande effervescenza di quella che è il piacere di goderci del teatro. L'Ele Amoruso è entrato nella televisione, è entrato nel cinema e ha portato a Soverato quelli che erano dentro la scatola e nel magico schermo delle sale. Un minimo di soddisfazione c'è? Guarda c'è una grande soddisfazione, soprattutto sai per quale tipo di carattere, perché è una produzione interamente comunale, quindi con la dirigente Paola Grande, Carmela Valentino, Tena Pipicelli, Annelita Noia, tutte persone comunque che hanno dato un loro vivo e fattivo contributo per l'realizzazione di questa stagione e questo è il lato che mi inorgoglisce maggiormente e che veramente mi dà una grande soddisfazione. Grazie, grazie, grazie. Grazie di non credere a quello che hanno cercato di farci credere anche che si possa stare meglio lontani uno dall'altro e pensare che si possano condividere emozioni anche con uno schermo. No, per il teatro se non c'è qualcuno in sale. Grazie.